Ciao a tutti! Oggi parliamo di un argomento che non è così legato allo sviluppo di Blender, ma allo stesso tempo lo è. Il supporto dell'industria per Blender. Blender è un progetto open source, appartiene alla comunità, lo sforzo di una comunità che mette insieme energie, persone, per migliorare il software tutti i giorni per gli utenti che lo usano. Alcuni di questi utenti sono l'industria. Blender è utilizzato per fare qualsiasi cosa. Ci sono un sacco di aziende che lo utilizzano per fare prototipazione, per fare design, per fare stampa 3D, per fare film, per fare visualizzazioni. Per saperne di più potete dare un'occhiata alla sezione user stories sul sito di Blender.org per farvi un'idea. Esistono diversi modi per supportare lo sviluppo del progetto open source, per aiutare lo sviluppo di Blender. Uno di questi è il Development Fund. È un fondo gestito e coordinato dalla Blender Foundation, creato con lo scopo di raccogliere donazioni e poi investire queste donazioni direttamente nello sviluppo e soprattutto nel mantenimento di Blender. Per assicurarsi che Blender continui a funzionare, che chi scrive un bug report sul sito developer.blender.org riceve una risposta. Al momento il Development Fund supporta 2-3 sviluppatori a tempo pieno, regolarmente da dei grants, cioè degli assegni di ricerca, degli assegni di sviluppo a nuovi sviluppatori per entrare nel giro, per iniziare a sviluppare all'interno di Blender. Blender.fund. I numeri sono pubblici, gli investimenti che vengono fatti nello sviluppo sono pubblici e la lista degli sponsor è pubblica. Ci sono persone, ma ci sono anche alcune aziende che si occupano di diverse cose. Blender Market, Valve, Blend4Web, CGCookie, Effetti Digitali, Sketchfab, BlendFX. Ci sono più di una dizina di sponsor di un certo profilo che regolarmente supportano Blender. Ma oggi parliamo di quattro sponsor che in particolare hanno deciso di investire in modo ancora più significativo in Blender. Uno di questi è Tangent Animation, è uno studio di animazione basato in Canada che ha prodotto un lungometraggio di animazione interamente in Blender. Odzi. Non stiamo parlando di un film Pixar, ma è comunque un inizio. Hanno utilizzato Cycles come motore di rendering, l'hanno personalizzato e poi hanno deciso di collaborare con i sviluppatori di Blender per integrare alcune delle modifiche che hanno fatto direttamente in Cycles. E in più hanno deciso di investire direttamente in Blender per avere nuove funzionalità sviluppate nella versione, no, nel master, nella versione attuale di Blender. Tangent è uno studio di animazione di 150 persone. Da ottobre 2016 Tangent supporta due sviluppatori a tempo pieno che lavorano al Blender Institute, al progetto della Viewport. Seconda azienda, Nimble Collective. È uno studio creato da ex dipendenti DreamWorks che hanno deciso di andare per la loro strada e definire un nuovo approccio, no, un approccio innovativo nella produzione di contenuti, nella produzione di animazione. Il loro obiettivo è quello di dare accesso a chiunque ha una pipeline professionale per creare film a un prezzo molto competitivo. Online, semplicemente utilizzando un browser, quindi senza usare direttamente un software sul proprio computer, ma online. A partire dal 2016 Nimble Collective ha investito, ha deciso di investire seriamente in Blender perché lo usano come parte del loro pipeline e supportano uno sviluppatore a tempo pieno che si occupa di Dependency Graph e di Alembic. Quindi strumenti di animazione e pipeline. AMD. AMD sta ritornando sulla scena, stanno producendo nuove schede video, hanno lanciato un nuovo processore e nel loro interesse è assicurarsi che Blender funzioni al meglio sul loro nuovo hardware. E quindi hanno deciso di sponsorizzare uno sviluppatore a tempo pieno per lavorare sull'implementazione di OpenCL in Blender per funzionare al meglio sul loro nuovo hardware. Infine Aleph Objects. Magari il nome non sarà molto conosciuto, però la loro stampante 3D, l'Halsbot, una stampante 3D completamente open source, open hardware e open source software. Cioè le schematiche per produrre una stampante 3D sono disponibili online, cioè uno può stamparsi la stampante 3D volendo, stamparsi i pezzi della stampante 3D e modificare il software per la stampante 3D. Quindi è un'azienda molto visionaria, molto aperta, che ha un discreto successo. A partire da quest'anno ho deciso di supportare Blender Institute per avere due sviluppatori a tempo pieno per lavorare al progetto dell'interfaccia e creare un flusso di lavoro dedicato alla stampa 3D. Ok, questo è quanto. Se volete anche voi diventare parte integrante dello sviluppo Blender, considerate la possibilità di andare su Blender.fund e diventare parte del Development Fund, oppure di supportare direttamente Blender Institute tramite Blender.cloud. Ok, grazie. Ciao!